Gas a tutti ragazzi, bentornati su 48 cavalli, prego, enunci lei cosa sta per succedere Nuovo video, nuova tipologia di video, faremo una sfida, quiz, prova Ci siamo fatti creare delle prove dai nostri amici Gas e Bubo di V Gas dietro la telecamera, se vuoi salutare Bubo di Vole, ciao a tutti Bubo di Vole, Maldive, saluto da Ravenna Ci sfideremo in queste tre categorie che dopo vedrete Sarà una piccola sfida in famiglia diciamo Regole, regole diciamo le regole Regole Un punto a chi indovina, ci si prenota suonando il campanellino che abbiamo ai nostri piedi Quando si sbaglia turno dell'altro Ovviamente noi non sappiamo nulla delle domande che stanno per esserci fatte Insomma non abbiamo creato delle domande chiaramente Dietro la telecamera si mettono le mani nei capelli E quindi iniziamo, non sappiamo niente e iniziamo con la sfida Attenzione! Se non ti iscrivi, prossimo giro ti si bucca una gomma La prima categoria sarà quella del sound dove loro dovranno capire tre moto Appunto nel loro sound e vediamo chi dei due ne capirà di più L'attrezzatura high quality abbiamo una cuffia di parta di MC2 Prego! Prima sound Prima sound Ci prenotiamo col campanellino Ci siamo? La tensione, il cuore che batte Abbiamo Feb che ci cambia È un tre cilindri Secondo me è un MT-09 No Sbagliato Vai! Prossima risposta devo dare io Sì Vabbè, non serve che vi prena Secondo me questa è una triunf Dico l'RS 1200 Sì Andiamo! Giungo nelle regole che dopo uno o due tentativi sbagliati Hanno un indizio per entrambi che possono sapere Aiutarli un po' Ok Vai! Secondo? Secondo Ho capito il genere di motore però ce ne sono troppe Allora Mi butto, ci provo Mi butto, ci provo Dico Vabbè Allora sicuramente una 4 cilindri E una 4 cilindri Sportiva Mi butto su una Yamaha E dico R1 Sbagliato Cazzo Vai, ce li senti È finito qui? No, dura molto di più Però Diciamo che La parte che vi hanno sentito è questa Se volete possiamo andare avanti nel video Sennò potete chiedere un indizio Dato che avete un indizio Dai Un indizio Vuoi provare? Allora secondo me non è una sportiva Questo non ve lo dico Non è l'indizio Dai Altri secoli Sì sì Vai avanti un po' nel video Sì, lascia andare avanti il video Vediamo Secondo me è una Z1000 Sì È lo Z1000 È vero È vero È vero È lo Z1000 Top Terzo sound Terzo sound Terzo sound Vai abbiamo fatto che si cambia Street Fighter V4 No No Avrei detto anche io quella Per fortuna Adesso vi ascoltiamo Che smarmitata di brutta Quindi questo è difficile Anche io avrei detto Resto allora sulle italiane Dico Tu ho un V4 Eh perché questo for botto è Ho addirittura un dubbio Che sia un quattro cilindro Mi sembra quasi un 2 Se è un quattro cilindro è un V4 Cazzo è difficile Io questa l'avrò votata Per la più facile Che potessi indovinare Attenzione abbiamo Alto e Peb in difficoltà Sentiamo un altro cosa dice È il 1098 È la Street Fighter Ma nel V4 è il 1098 No Sbagliato Ma non sai di che Non ha la frizione Che fa Beh vabbè però Vai L'ultimo partito Anche te allora Vai Peb Super Duke Sbagliato anche questo Dacci l'indizio Avete l'indizio Che è sia un V4 Sì Ok Ed è un top di gamma Della Italiano Diciamo Ok Peb Panigale V4 Mi Sì Diciamo che è quella Superleggera V4 Vabbè Vabbè È quella È quella C'eravamo Il Gazz Street Fighter V4 L'avevo preso subito Però Il V4 è questo Vabbè Vabbè Va bene Va bene Ecco diciamo Uno per te Però mi rifacciamo Bene Adesso Ok Niente audio Basta audio Vero? Basta audio Ok Per la seconda prova Avremo una serie di tre foto Con un dettaglio di un luogo E i 48 cavalli dovranno cercare di indovinare qual è questo luogo Sì Ma è il luogo in cui siamo stati noi o il luogo motociclistico famoso in generale? Questa è una bella domanda Io non ho cercato le foto Un po' entrambi Siete stati in alcuni di questi posti e di altri ne abbiamo sentito parlare Ok Va bene Tendenzialmente li conoscete Questa è la base Va bene Va bene Con eventuale indizio anche in questo caso Ok 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 Sì Sì Niente Ah 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 No Ah Questa è la più facile Ok Soprano vero Soprano vero Soprano vero Adesso Il bar Dato che stanno Discutendo su chi Prima e dopo facciamo una cosa tipo alla parruvezza con il pistone Mettete giù i campanelli Al tre Prima che arriva suona Mani dove? Mani dove? Mani in alto Mani dietro la testa Dietro la testa mi sembra giusto Ok Al via Al via Vai tu 3 La testa deve star dritta però Mr. Cher 3 2 1 Via E' altamente Prima è il passo della sunbook Prima è il panetto Il panetto è il gatto Allora si è giudicato un punto Il conteggio dei punteggi siamo 2 a 2 2 a 2 Volete sapere l'indizio giusto per curiosità Vai prova Allora l'indizio Si è cascato un bambino No l'indizio è Se Feb non va troppo veloce la si può vedere di sfuggita Questo è l'indizio Carina Carina Ok Ok Seconda foto Glossnockner Glossnocker Si Ok Si è il suo Il suo Il suo casello Si è stato bravo Andiamo per buona la pronuncia Andiamo per buona Andiamo per buona Va bene Non so come si pronuncia scusate Ma che cos'è del Glossnockner Quello lì E' il casello di entrata Quello che si paga Complimenti 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 Quindi 3 a 2 Terza foto Mr. Feb Mr. Feb si cani da sempre Questo è lo stesso E' il Elephant and Treffen Si Esatto Giusto 4 a 2 Bravo Mr. Feb prende il margine Qua c'è stato Per la terza categoria abbiamo deciso di selezionare qualche faro anteriore delle moto E loro dovranno cercare di capire di che faro si tratta Ok Primo faro Uh Anche questo è un po' Ma Spalese Non lo faccio io Quasi in contemporanea Dai io sto perdendo dai Cedo 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 Magari adesso la sbaglio Esatto Perché ti dico la verità Sono indeciso tra due fari Giusto così per narrazione Uno è il CB1000 Non puoi dire Non puoi dire Non puoi dire E uno è il Viptilion Ok Però dirò il Viptilion Quale? Eh beh Ah è molto diverso Facciamo il 701 Esatto Si Anche cruro Quindi 4 a 3 4 a 3 cosa Ok Secondo faro Cazzo Mr. Perdo Questa è una bella RSV4 nuova O è un RSV660 È sbagliato Ma sono uguale I 660 Sono uguale cazzo Ma non è la 660 No Come no? Ma cazzo è possibile Ma come no? È la tuona Esatto Sì È la tuona Quindi siamo 5 a 3 5 a 3 Ho perso Puoi riprendere? Non credo No Per l'onore Per l'onore Terzo e ultimo fanale 5 a 3 È una katankia Su due katana Eh niente Non si era arrivata Vabbè dai facciamo l'ultima Facciamo l'ultima Sì 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 è un'altra foto Ma è un dettaglio Perché lo spareggio Sarebbe consistito nel Vedere un dettaglio di una moto E cercare di capire Di che moto si tratta Ok Adesso ve la faremo vedere Anche se non è uno spareggio È giusto per Per il fan Sì Questa qui un dettaglio particolare Che ha solo quella moto Esattamente Ok Ultima foto Arriva adesso Dettaglio di una moto Da indovinare Ok Ma che questo è questo? È bicicletta Demosendici stradale RR Ducati Andiamo a vedere Perché non lo so Andiamo a vedere È la Ducati di Smosendici Dai Questo viene Che l'ha fatto Bu Bu Sì Confermiamo Confermiamo Che è la Ducati E quindi Staccato 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 Mr. Feb Si aggiudica la sfida Bravo È stata comunque Una bella sfida Grazie Complimenti Cosa vinci? Niente Un cazzo Mamma l'onore L'onore Vuoi tenerti già un cazzo? Ma non tenere a vincere Io non mi dico mai un cazzo Quando siete un cazzo È un cazzo Si Ha vinto con i microfoni Nello video precedente Ho un'opera Un'opera Scommessa del 2021 Vabbè allora Complimenti Complimenti Mi metterò a studiare Però però Quella del 2022 2023 Se questo video Può piacere Come contenuto Si si Può ripetere Magari lo rifacciamo E lo rifacciamo Anche con gli altri amici Mettiamo dentro Anche Gas Bubu Theo E Fra Vabbè Vabbè dai Se vi è piaciuto Anche quella volta Se dovesse capitare Niente pegni da pagare Perché se no pago come Qualcosa Allora Quindi se questo video Vi è piaciuto Cercate di farcelo sapere Magari lasciate un like Scrivetecelo sotto nei commenti Su Instagram Dove vi pare E cerchiamo di replicare Anche con gli amici Si Se il video C'è Se il tipo di video Vi può piacere Insomma Scrivetelo nei commenti Grazie per Essere stati con noi qui oggi Aver visto tutto il video Per aver visto La mia pittoria Con il campanellino Mentre parli Ciao Buona ragazza